vandali vandali ciao ragazzi buonasera questo telefono sono di continuo io ho la febbre al quanto c'è sto male sto male perché c'è sto male perché sto male perché sto male perché ieri mi sono alzato c'è un porco di capetà d'improvviso non lo so ho iniziato a tremare ho iniziato a sentire freddo e mi sono messa a letto cioè proprio sono svenuta però mi sono sentita molto male ho preso il fergal can oggi anzi mi devo spruzzare anche un po di questo qua che mi ha portato una mia amica però per me sa d'acqua è un silver blu spray contrasta la proliferazione batteri che funghi nabù non lo so io a poco d'ausse il tele qua io devo stare in forma per gli e per il 9 perché devo presentare il libro se no è un macello è un macello perché è un macello oggi è venuto da angolo una mia carissima amica a trovarmi nella casetta e lei mi dà come ha lavorato con me per 20 anni 25 anni è stata la mia caporeparto ha lavorato poi per grandi firme lui già ha lavorato per mandali per armare insomma ha lavorato per grandi firme lei stava al reparto spedizioni ha fatto la modellista e quindi quando devo andare in qualche posto mi dà anche un suggerimento di quello che mi devo mettere e però non ve lo dico sarà una cosa carina perché io di solito porto sempre in realtà che stavolto stravolto un po tutto mi ha portato questo portachiave carini si questo portachiave carinissimo mi piace tanto avere portachiavi così lo ritrovo prima perché se voi mettete molti portachiavi quando nella borsa li ritrovate poi c'ho questo che mi hanno regalato i miei amici della nel mio per dirti che sei nel mio cuore questo è quello del praticamente quell'anello che porto sempre io dell'albero della vita poi c'ho questo gufetto che mi sono comprata io quindi portachiavi sono molto e in più mi ha scritto un bel biglietto quando una persona scrive un biglietto è carino dai con questo cosino oddio questo mobbia su una questo altro telefono aiutate in angolo l'augurio più bello è che tu possa realizzare tutto ciò che desideri con grandissimo affetto susanna e claudio che il suo compagno lei è luce da qui le luce la sapete o mamma piccolina nino pippo ti che tac che bomba a mano praticamente oggi è stata per il paese io sono stata un po dispiaciuta perché ho accompagnato la mia amica e ho visto un gatto che era morto l'avranno acciaccato non lo so mi è dispiaciuto tanto poi mi sono fatta perché ho di capelli downs una doccia sperando che mi sbollo un pochino e insomma niente poi faccio merenda e poi siccome oggi mentre stavo nel letto a bugodowns ho visto follettina un video che ha fatto e ho detto mo le faccio purì perché mi piace e a me piacciono le domande a domanda rispondo ciao follettina allora il video è stato fatto da un certo che saluto vandalo non vandalo scusami ma tu se mi conosci sai che non lo dico a te un certo gggx gx e dice le 50 domande un po' grande lunghe io non le ho lette vediamole insieme vandalo vandalo dai a bugodowns mo mi ci vedo a ridere vabbè dai allora pensi di essere bella? no no sinceramente no perché mi trovo sempre a bugodowns e tic e tac molti difetti vabbè a parte quella della sindrome non è un difetto è una patologia però la cellulitrica i capelli strizzati down tutto il resto non mi piaccio vandalo pensi di essere simpatica? abbastanza sì sì penso di sì pensi di essere intelligente? a volte no a volte no perché rispondo a persone cui non meritano nel senso quando vedi che non nardama che gli rispondi a fangio perdere tempo e la penso di dimostrare poca intelligenza pensi di saperci fare con l'altro sesso? no no ni segno zodiacale e gemelli sole o pioggia? sole stagione preferita la primavera che oggi non c'è più perché comunque la primavera è andata un po' non si sa dove caspita non ci sta oddio mo mi sa smorte cioccolato bianco nero oddio cioccolato non è che mi piace molto però se preferisco quello nero fondente è più facile ridere o piangere? beh è più facile piangere perché devo dare pure la motivazione ma io la do perché perché praticamente piangere ci piangiamo sempre un po' addosso no? e ridere e sorridere è sempre più difficile è poco da us ecco luce cioccolato bianco nero è più facile ridere o piangere recita la frase di un film dopo tutto domani è un altro giorno o no? ma sì domani è un altro giorno era così la frase oggi stingo proprio cise però la frase era domani è un altro giorno si vedrà oddio no ce lo siamo emesse noi domani è un altro giorno si vedrà che diceva Rossello Are quella vabbè domani è un altro giorno una cosa del genere oppure la frase di un film che cosa stai dicendo Willy film preferito allora film preferiti ce ne sono molti però quello che mi piace di più è ma mi piacciono i film di Totò di Sofia Loren però proprio in assoluto dico di Dance in Washington via col vento dai via col vento che è un po' oppure sì perché racchiudo un po' tutto mi piace via col vento dai film preferito via col vento vabbè oppure primo appuntamento che ho fatto io ma non è un film di quanto sei stupido allora libro preferito ma chiaramente colpa di chi non potevo giocare a nascondire che sono i miei no il libro preferito è una siloge di poesie di Aldamerini mi piacciono molto i libri di Aldamerini di Emily Dickinson e anche di Neruda cantante preferito la Nannini e la Loredana per te mettiamo prima Loredana per te poi la Nannini ti arrabbi facilmente sì mi arrabbio sono molto a poco daos sono molto a poco daos sono molto impulsiva oddio mi stingo a sfiatare cal sono molto impulsiva quindi mi arrabbio facilmente hai qualche vizio? ma certo che sì altrimenti non sarei umana vizio del fumo anche se non è un vizio perché non fumo molto però sì vizio se si può trattare di vizio sono molto compulsiva anche se ho smesso di comprare le scarpe un comportamento che mi dà fastidio oh disudo comportamento che mi dà fastidio è la falsità la falsità proprio è una regga propria a porco dire la Madonna di Cristo proprio non la reggo per niente se è superstiziosa no no mi fisso un po' sulle cose magari ma bandali magari passano a parte quella mola mi cambiamo ha detto è l'erba che fa male che stava attaccata ai muri io mi fisso che l'erba quella è l'infezione però superstiziosa no cioè tipo se casca l'olio se casca lo specchio mi rompe i coglioni perché d'ingarcoio le cose ma non non è superstizione allora la tua la tua meta da sogno la tua meta da sogno significa ah la mia meta una meta oggi che voglio raggiungere a vandali è proprio fare una una casa incontro per ragazzi turrettici turrettiani come le vogliamo chiamare come ci vogliamo chiamare aia sei ma stata innamorata sì credi nell'amore assolutamente sì vandali animale preferito luce i cane amo tutti gli animali però mi piacciono più i cani hai avuto mai il cuore spezzato sì vandali onda 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 sì diverse volte hai mai spezzato oddio mo hai mai spezzato il cuore di qualcuno ma credo sì qualche volta mario montagna mare fiore preferito rosa hai avuto più di relazioni cinque hai avuto più di cinque relazioni serie no ti piace notare sei felice sì ti piace notare certo sono un pesciolino sì mi piace notare il giorno più brutto un po' che sto confusa per la febbre però il giorno più brutto in assoluto adesso vabbè vabbè ce ne sono due le vorrei dire tutte e due quando ha fatto un incidente molto grave mio figlio e quando è morto mio papà ti sei innamorata del tuo migliore amico eh una volta è successo con un amico caro che ha avuto una piccola penso un'infatuazione però non era amore proprio ma io sto saldando pure le domande sei felice ti piace notare il giorno più bello il giorno più brutto il tuo giorno più bello quando è nato mio figlio a buco d'aus hai già festeggiato il compleanno no è il 16 giugno ma hai fatte diete sto sempre a dieta però tengo la faccia piccola il curt sec e il culo grosso e mi sono ingrassata mi devo rimettere a 10 se no mi metto il pantalone domenica ma hai fatto ore piccole ma certo che sì campeggiato sì una volta a Rimini quando andavo alla Baia abbiamo fatto un campeggio e anche a Carriati ti sei mai lasciata condizionare sì purtroppo in una situazione che mi è successa ultimamente molto brutta qui mi avevano chiesto anche dei soldi hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? ma sicuramente ma sicuramente la tossicodipendenza però diciamo che mi sono uscita abbastanza bene mi è servita per capire altre cose a buco d'aus con la comunità se ne facevi eri mi però a buco d'aus di che dac di che dac me l'ho fatta andiamo avanti mi sono pentita sì com'è la tua colazione? latte senza o di soia ma soia no riso sicuramente latte di riso un po' di caffè e biscotti integrali oppure a buco d'aus come si chiamano fette biscottate con il schingfusa ragazzi con la marmellata ma quella dietetica hai delle manie? madonna ma un vandalo a vandalazzo questo quando ha fatto queste 50 domande non mi conosceva vabbè comunque non le ha fatte per me perché chiaramente le ha fatte ma hai delle manie? avvocato io i capelli tanti quando sono pronta oggi oggi ho una faccia orrenda vabbè però mi ho detto che stavo male hai delle manie? voglio dire se non ho delle manie facciamo prima e ora mi sono andata a mangiare quel bombolo netto piccolo fritto hai viaggiato all'estero? ma sì se per l'estero sì la Spagna la Svizzera e la Germania oltre no dove vorresti vivere? dove sono? fratelli o sorelle? sì ho un fratello due fratelli e una sorella cosa vorresti dalla vita? dalla vita vorrei quello che ho adesso cioè la serenità di vivere vandali ancora sempre vicino a mio figlio di realizzare questo mio progetto e vorrei di stare sempre serena e in pace con tutti finché si può la tua parola preferita vandali c'è una vita dopo la morte? io credo di sì la parte del tuo corpo che preferisci è il seno per cosa ti batteresti fino alla morte? allora per la vita di mio figlio sicuramente e è per questa purgo di battaglia che sto facendo per sensibilizzare e informare che cos'è la sindrome di Tourette io vi saluto grazie a questo ragazzo che ci ha permesso di fare queste 50 domande che sono semplici però le ho ricopiate a lui e un bacione grande grazie anche a Follettina che ho girato questa ispirazione mi piacciono queste domande mi piacciono tanto le domande a cui devo rispondere sono dei giochi che mi piacciono e volevo dirvi che se volete ecco come scusate tutti mi hanno richiesto il libro mi potete chiamare su Instagram Sabrina Marchetti Official perché ho tante pagine fan quindi solo Sabrina Marchetti Official a poco d'aus ciao a tutti un bacione grande